di The Batman, di Matt Reeves, io sono veramente euforico, come diceva qualcuno. Per quale motivo? Perché finalmente mi ritrovo di fronte a una pellicola che omaggia in tutto e per tutto il retaggio fumettistico del Cavaliere Oscuro. Parto dal presupposto che riuscire a entusiasmarmi era tutt'altro che facile perché a differenza di molti di voi io non avevo hype nei confronti del film e il motivo è presto detto e questa è una premessa doverosa. Negli ultimi anni il Cavaliere Oscuro è stato abusato in ogni mezzo possibile, in ogni media. Videogiochi, serie animate, film animate, serie tv live action, cinema e nella maggior parte delle interpretazioni era fedele a se stesso, soprattutto se parliamo di animazioni e di videogame, ma sul fronte a live action è stato spesso frainteso profondamente. Tanto in Gotham, quanto in Titans, quanto in Crisi sulle Terre Infinite, quanto in Batman v Superman, quanto nella Justice League di Joss Whedon per l'appunto, quanto nello Snyder's Cut, quanto in Batwoman, in tutte le incarnazioni live action Batman sbarellava, uccideva, si autoesiliava, impazziva e lasciava Gotham. E questa è una cosa che mi ha sempre dato profondamente fastidio perché secondo me il personaggio del Cavaliere Oscuro è sempre stato profondamente bistrattato. Matt Reeves aveva un compito molto, molto difficile con questo film, ossia riuscire a mettere il personaggio del Cavaliere Oscuro sui binari. Cazzo se c'è riuscito. C'è riuscito e come? The Batman dura due ore e cinquantacinque, ma queste due ore e cinquantacinque non pesano per niente perché questo film non è il classico cinecomic Marvel e da qui capisco le recensioni negative da parte della critica. È un film molto, molto lento, molto riflessivo. C'è anche della buona azione diretta bene, ben coreografata, ma è un film che fa dell'introspezione dei personaggi da un punto di vista di retaggio culturale, storico, psicologico, emotivo, sentimentale, di dualismo, di interconnessioni, di relazioni umane e sentimentali, familiari. C'è un tema molto importante per tutto il film che è quello delle colpe dei padri che ricadono sui figli ed è quello del rapporto che i figli hanno con i genitori e non solo da parte di Batman, ma anche da parte di Catwoman, ma anche da parte dell'enigmista. Il rapporto padre-figlio è molto, molto importante in questo film ed è un rapporto che Reeves ha sempre voluto trattare in tante sue pellicole sotto forma di tante sfumature differenti, qua in maniera molto più palese. E allo stesso tempo è un film noir, è un film thriller, è un film crime, c'è tantissima indagine. Perché sono contento? Perché molti di voi non lo sanno, ma DC Comics sta per Detective Comics perché si presuppone che Batman sia il più grande detective del mondo. Molti lo considerano un supereroe, molti lo considerano un vendicatore, molti lo considerano un giustiziere, un vigilante. Sostanzialmente, Bats, però, è uno che ha il cash, è uno che ha investito tanti soldi per i propri gadget, è uno che ha formato la propria mente, il proprio spirito e il proprio corpo, è uno che ha avuto molta devozione nei confronti delle arti marziali, della disciplina, dello studio e della cultura, ma allo stesso tempo è un grandissimo detective. E c'è qualcosa che in tutti i film di Batman è sempre mancata in maniera così predominante, ossia la componente investigativa. Cosa che nei fumetti e nei videogiochi, invece, si vede chiaro e tondo. Molte persone continuano a dire «Ah, finalmente un Batman come si deve alla faccia di Snyder!» E io non solo sono d'accordo, ma rincaro anche alla faccia di Nolan. Moltissime persone pensavano che questo Batman non avesse niente di più di quello mostrato da quello di Christian Bale. E invece, ragazzi, dovrete ricredervi, un film del genere non l'abbiamo mai visto. E la cosa più bella è che, se in questo film la storia si fosse svolta a New York e avessimo avuto una ladra particolarmente in forma sinuosa e un giustiziere random, questo film avrebbe funzionato comunque. Questo film, anche senza Batman, è un bellissimo film. Questo film è davvero un film che è pieno di contenuto, è pregno di trama, ha una mitologia, ha dei misteri che una volta di fatto sfilata tutta la matassa, una volta arrivati alla fine, riusciamo tranquillamente a comprendere in quanto un intreccio semplice, una storyline piuttosto chiara e cristallina. Ma il modo in cui Matt Reeves ha orchestrato tutta l'indagine e il modo in cui tutti i personaggi mettono insieme i pezzi è fantastico. E soprattutto all'inizio lo spettatore non sa dove può andare a parare. Certo, questa è una cosa che va detta. Se siete lettori di C-Comics, amerete ancora di più questo film. perché Il Lungo Halloween, Ash, Città Spezzata sono tantissimi riferimenti fumettistici che vengono messi in mezzo all'interno della pellicola. Quindi ci sono anche un sacco di easter egg e un sacco di riferimenti che probabilmente un pubblico più neofita non riuscirà a cogliere o magari non si esalterà perché non sono easter egg cinematografici ad altri progetti come ci ha abituato il Marvel Cinematic Universe. Sono easter egg fumettistici, quindi se non siete lettori, tante cose, semplicemente ve li perdete. Altrettanti, invece, diciamo che sono avvantaggiati e sono avvantaggiati perché riusciranno a capire e a scoprire determinate cose prima del tempo, fermo restando che il film saprà sorprendere in tantissimi momenti, fermo restando che tutti i personaggi sono scritti in maniera incredibile, partendo da Il Batman di Robert Pattinson. Matt Reeves ci ha preso un po' in giro dicendo che in questo film avremmo avuto molto più Bruce Wayne che Batman. Non è così. C'è molto, molto Batman. C'è poi spazio all'introspezione di Bruce Wayne, c'è spazio anche al legame, al retaggio familiare di cosa significa essere un Wayne. Ci sono un sacco di corrispettivi, di analogie, di riferimenti all'interno della pellicola, ma allo stesso tempo il film entra immediatamente nel vivo. Ci sono giusto alcuni rimandi alle origini del pipistrello, ma si vede che questo non è un film di origini. Nel giro di 20 minuti vedrete subito Batman, vedrete subito Catwoman, vedrete subito il pinguino. Si entrerà subito nel libro della vicenda. E il motivo è presto detto. È un film che ha tanto da raccontare. È un film che non ama perdere tempo. È un film che, anche all'interno dell'indagine, riesce a incastrare relazioni sentimentali, tensioni sessuali, dramma irrisolti, e chi più ne ha più ne metta. Questo Bruce Wayne non è il classico playboy che è solito uscire per le strade. È letteralmente, come l'ha detto lo stesso Pattinson, un emo, è una persona che rispecchia molto il suo make-up, il suo trucco, questi ciuffi sempre sfatti che coprono gli occhi, questo trucco che va a coprire anche sempre il nero negli occhi, questo Batman che vive più nella Bat-caverna, anche sotto forma di Bruce, che nella vita di tutti i giorni, che rifugge gli incontri con gli investitori, che non vuole fare vita mondana, che vive quasi come se fossero i kikomori, e con un Alfred che vuole essere paterno, nonostante sia consapevole che Bruce non lo accetti in un ruolo di figura paterna, quindi c'è un contrasto, come se fosse il suo tutore legale che l'abbia cresciuto in maniera amorevole, dolce e attenta, ma che allo stesso tempo ogni volta che gli ricordi i suoi doveri di magnate finanziario, i suoi doveri di Wayne più che di vigilante, in automatico scatena delle tensioni. C'è un qualcosa di non detto, c'è un conflitto che prima o poi è destinato ad esplodere tra i due. E Alfred è molto sommesso, nonostante delle volte provi in maniera rigida, come se fosse ancora un bambino Bruce a riprenderlo. E questo Bruce sostanzialmente non vuole essere circondato da belle donne, non vuole fare vita mondana, vuole semplicemente portare avanti la sua missione, provare a sfogare la sua rabbia. Essere Batman per lui non è una missione, non è una vocazione, è terapia. Ed è una cosa bellissima questa cosa, perché il fatto che noi finalmente vediamo il Cavaliere Oscuro non come un'immagine a sé stante, non come una componente collaterale di Bruce. Qua viene visto come se fosse Bruce Wayne la maschera e Batman la versione autentica, più genuina, più naturale di Bruce. E questa è la cosa che ho apprezzato tantissimo. Viceversa, purtroppo, nonostante abbia apprezzato Andy Serkis come Alfred, c'è un qualcosa che non mi è piaciuto nella sua interpretazione, ossia lo screen time che gli è stato donato. È un Alfred che, quando è presente in scena, è molto Alfred. È davvero Pennyworth, fatto e finito. Ma che, purtroppo, per una serie di motivi, ha molto meno screen time di tutti gli altri personaggi. E questo è uno dei motivi per cui, anche in campagna marketing, durante la promozione del film, magari non figurava a fianco degli altri attori. E questo, forse, è il rammarico più grande che ho. Va benissimo Colin Farrell, che come Oswald Oz Cobblepot ha terribilmente incentrato il personaggio. È una persona viscida, disgustosa, è scaltra, è intelligente, ma allo stesso tempo è anche impulsiva. È anche, forse, il comic relief della pellicola. Non c'è il tanto spazio alla risata, ma alcuni dei momenti più divertenti riguardano i personaggi di Gordon, su cui torneremo tra poco, e, per l'appunto, anche lo stesso Pinguino. Il make-up rende Farrell terribilmente credibile, terrificante. Io, dopo aver visto questa interpretazione del Pinguino, non vedo l'ora di vedere la serie TV dedicata a lui su HBO Max. Zoe Kravitz è stata fantastica come Selina. Riesce a essere tormentata, riesce a essere, allo stesso tempo, sinuosa, sexy. Ti riesce a dare quelle vibes alla Fujiko, in cui ti puoi fidare, ma non ti puoi fidare. In cui ha degli obiettivi che possono incastrarsi con i tuoi, ma, allo stesso tempo, conviene avere anche due occhi dietro la schiena. È un personaggio tormentato che qua ha una gravitas drammatica incredibile, pazzesca. Viene scritto con un background molto differente rispetto a quello che abbiamo avuto in qualsiasi altro film, che gli dà anche un tono maggiormente realistico. Abbiamo poi Paul Dano. Paul Dano, che finalmente supera la sua paura dell'esposizione nei confronti di Hollywood, ed è uno dei motivi per cui ha sempre fatto ruoli piccoli in serie TV, in film direct to video, o magari in film indipendenti, perché ha sempre avuto paura, il terrore, di riuscire a essere all'altezza, di sopportare la fama, la celebrità, i paparazzi, i riconoscimenti, le nomination. E sostanzialmente sono contento che l'abbia fatto, perché il suo enigmista è incredibile, è folle, è letale, è lucida follia, allo stesso tempo diventa razionale, e ha un sacco di parallelismi con Bruce Wayne, ha un sacco di parallelismi anche con Selina, perché, ripeto, i tre personaggi sono molto, molto legati alla loro figura paterna in un modo o nell'altro. E l'immagine dell'enigmista è un'immagine insurrezionalista, è un'immagine da terrorista, non è solo un'immagine da serial killer. In questo film, nei toni, nel registro, nei dialoghi, nelle scene, nella fotografia, ci sono tantissimi rimandi a Zodiac, ci sono tantissimi rimandi anche a Seven, ci sono rimandi a Sol enigmista, ci sono rimandi cinematografici alla qualunque, ed è bellissimo, perché è un film che, nonostante celebri, nonostante omaggi, ha una profonda identità. È un film che, quando lo guardi, dice non sembra che si sia aspirato a Burton, non sembra che si sia aspirato a Nolan, è un film di Reeves, ed è un film veramente, veramente convincente. Convincente anche nell'impiego inedito di personaggi che tutti conosciamo. Jeffrey Wright, come il tenente Gordon, dà delle dinamiche incredibili. Anzi, se lo chiedete a me, Gordon è il coprotagonista del film. Ha uno screen time immenso, ha delle dinamiche da buddy movie e da buddy cops, insieme a Batman, che sono pazzesche, che sono folli. E chiaramente, nella serie TV prequel, che deve arrivare sui CBO Max, dedicata al GCPD, io immagino che vedremo tanto Jeffrey Wright, e pensa a questo punto, che vedremo anche Robert Pattinson. Perché si vede che questo film si svolge nel secondo anno di attività del Cavaliere Oscuro, per il semplice fatto che i due personaggi hanno una chimica e hanno un rapporto di fiducia che pare inossidabile. E proprio per questo, immagino che nella serie debbano costruirlo, questo tipo di rapporto. E non vedo l'ora di capire come lo faranno. È veramente un personaggio cardine della pellicola, come Gordon è straconvincente, non vedo l'ora di saperne di più anche sul suo personaggio. E, ultimo, ma assolutamente non meno importante, John Torturro, che qua interpreta Falcone, anche se allo stesso tempo sembra sempre di più Sergio Castellitto, perché sta subendo un'evoluzione fisica incredibile. Mi è piaciuto. È uno di quei personaggi che nonostante siano viscili, cattivi, ha anche quel fascino likable. È molto elegante, ha il fascino del classico self-made man. Riesce a tenere in pugno tutto e tutti, riesce allo stesso tempo a rubare la scena ogni volta che parla. Mi piace il modo in cui si muove, la movenza che ha con le mani, quel sorriso mellifluo. Devo dire che lo vedo particolarmente smaiante, l'ho trovato molto, molto in forma. Poi c'è un personaggio di cui si parla poco, ma che nel film è presente dall'inizio alla fine, Gotham City. È una città che trasuda criminalità, fumo, sporcizia, ombra, oscurità. È una città che, nonostante faccia riferimento allo sfarzo, all'usso, agli eccessi, lo mostri relativamente poco. E quando lo mostra, lo mostra nei soborghi, nei bassi fondi, nelle parti più sporche, più lascive, dell'intera metropoli. È un personaggio del film che è vivo dall'inizio alla fine. Ed è una Gotham totalmente differente da quella che abbiamo visto in qualsiasi altro film. La fotografia, peraltro, la esalta molto. C'è un bilanciamento incredibile, a livello di cromatura, tra i colori freddi e i colori caldi, a seconda della scena. Gli effetti visivi sono presenti il giusto. C'è una scena stupenda che avete visto anche nel trailer, dove Bruce e Selina parlano. Quella scena è stata girata con la stessa tecnologia impiegata in The Mandalorian, anche perché sarebbe stato molto complesso farla in real life, visto le luci del tramonto. Ed è una scena anche piuttosto complessa da un punto di vista di intensità emotiva, di dialoghi. Quindi va assolutamente tenuta conto questa cosa. C'è poi la componente musicale. I temi di Michael Giacchino, che sembravano terribilmente lontani e distanti da quello che può essere un Batman, qua sono invece presenti in una maniera eccelsa. Ogni tema, ogni canzone, ogni traccia, giustifica in maniera plausibile, accompagna, guida e coccola ogni singola scena e diventa veramente una gioia per gli occhi e per le orecchie di qualsiasi spettatore. Mi piace che in questo film Batman sia terribilmente umano, tridimensionale. Bruce prende un sacco di pugni, Bruce si ferisce, Bruce è goffo, è impacciato, Bruce non è neanche, nonostante sia nei fumetti il più grande detective del mondo, non è neanche qua, in questo preciso istante, il detective più intelligente. In alcuni momenti gli viene in soccorso Alfred, in altri momenti gli viene in soccorso Gordon, è un Bruce che si interroga su quello che sta facendo. Mi sto comportando bene? Faccio bene a essere vendetta soltanto? Oppure devo diventare qualcosa di più? e allo stesso tempo è un Bruce impacciato, è un Bruce molto fisico, molto violento, molto incattivito, ma che ha ben chiaro quello che vuole essere e allo stesso tempo quello che ha paura di diventare. È un Bruce che ha già una morale piuttosto ferrea, nonostante si interroghi su quello che deve o non deve fare, sa già per certo quello che le persone attorno a lui debbano o non debbano fare. Questo è un film che deve tantissimo ai fumetti, ma è un film che deve tantissimo anche ai videogiochi. Nell'estetica del mostrare luoghi abbandonati, in curia urbana, con un sacco di messaggi scritti con vernice, con dei murales, nell'intelligenza dei dialoghi e soprattutto degli enigmi, in alcune scene creepy, nei combattimenti, soprattutto in gruppo, c'è tanto di Batman Arkham della Rocksteady Studios, c'è tanto dei videogiochi e ultimo, ma non meno importante, e questa è proprio la cosa che mi è piaciuta di più, lo continuo a ribadire e a ripetere, dato che l'ho detto anche a inizio pellicola, è un film che anche se non avesse avuto Batman, ma un vigilante random, se non avesse avuto Catwoman, ma una ladra random, se non fosse stata Gotham, ma New York, sarebbe comunque potuto funzionare. Perché questo film non si basa su Batman, la storia di Batman rotea attorno a tutte le altre, c'è la mitologia dei fumetti, ma anche se non ci fosse stata la mitologia dei fumetti, sarebbe stato un bellissimo thriller, sarebbe stato un bellissimo film noir e sarebbe stato un film con una trama davvero, davvero completa, con una trama ambiziosa, con una trama sostenuta, con una trama che ha il coraggio di spingere i personaggi fuori dalla comfort zone, non solo gli attori che sono stati scelti per il cast, e che, salvo un paio di scivoloni perché non è un film perfetto, risulta totalmente, totalmente credibile. Alcune scene, soprattutto un paio su front action, richiedono una certa sospensione dell'incredulità e lo dico perché questo film sostanzialmente è un film che omaggia la lord del Cavaliere Oscuro del Pipistrello senza comunque tradire un senso di realismo. Ma Matt Reeves è stato anche molto saggio perché nel film non c'è niente che smentisca o non c'è niente che confermi il fatto che in questo film possano esistere o non esistere divinità. Non si fa riferimento alla presenza di criptoniani, c'è un riferimento alla città di Bloodhaven, città dove per l'appunto Richard Grayson il primo Robin si formerà come agente di polizia e poi si staccherà da Batman coltivando la sua carriera di vigilante personale. Però allo stesso tempo, nonostante ci siano easter egg ai fumetti, questo film magari Matt Reeves è sincero quando dice che sta pensando di mantenersi su una dinamica realistica e di lasciare fuori determinate cose. Ma se Warner un domani volesse introdurre in questo mondo amazzoni, criptoniani, lanterne, viaggi nel tempo, fantascienze e quant'altro, volendo potrebbe farlo perché in The Batman non c'è niente che conferma o smentisce nulla, semplicemente si limitano a raccontare determinate storie e determinati personaggi. Un film incredibile che mi ha acceso l'entusiasmo e l'interesse per altri prodotti dedicati al Cavaliere Oscuro. Ricordiamo che nella giornata di ieri è stata annunciata un'altra serie tv ambientata nella lore di Matt Reeves del Cavaliere Oscuro in arrivo 6Cbio Max dedicata all'Arkham Asylum se prima pensavo che non avesse senso a seguito di determinate scene in questo film che poi in seconda battuta dirò nella parte spoiler che vedrete alla fine di questa recensione beh il senso adesso c'è e come e come se c'è e io non vedo l'ora di scoprire di più non vedo l'ora di ritornare di nuovo in questo mondo quindi In Soldoni è un film che mi è piaciuto molto so che molti di voi vogliono un voto quindi se dovessi dare un voto io darei un 9 è stato davvero entusiasmante è un film indipendente è un blockbuster di natura autoriale è un film che anche chi non è appassionato di supereroi dovrebbe guardare non mi interessa aver visto nessun'altra pellicola prima di questa perché si comprende tutto tranquillamente anche se non è un film di origini e ultimo ma non meno importante insieme ad Asus Squad forse forse sancisce la rinascita della DC Comics al cinema chissà e visto che finalmente ci troviamo nella parte spoiler posso lasciarmi andare in due considerazioni una certezza e una speranza la certezza rappresentata da Barry Kugan che dopo leak rumor smentite è ufficialmente il nuovo Joker di questo universo lo vediamo per poco tempo in penombra baciato dall'alba di Gotham ma con un make up convincente e in uno scambio fugace di battute che funziona benissimo con l'enigmista di Paul Dano sporna già una risata iconica e questo rende maggiormente interessante la serie tv sull'Arkham Asylum se facesse la ponte tra il primo e il secondo film e oltre all'indagine nel sequel avessimo anche un viaggio all'interno della malattia mentale con un roster di villain incredibile all'interno del manicomio di Arkham già fremo la speranza invece è dettata da un bambino che fa spesso e volentieri capolino nel film infatti sin dalla prima inquadratura la telecamera indugia spesso sul giovane figlio del sindaco Mitchell assassinato in questo film e se magari tutto questo indugiare non fosse solo perché Robert Pattinson nel suo Bruce Wayne vede un corrispettivo nel lutto del povero bambino che dopo aver perso il padre ucciso dall'enigmista effettivamente gli ricorda lui dopo aver perso Thomas Wayne all'interno della lore batmaniana possa diventare senza un background del circense il prossimo Robin è vero si chiama Mitchell e non Grayson però è stata già menzionata la città di Bloodhaven lo stesso Pattinson ha detto che nel sequel un Robin lo vorrebbe solo ed esclusivamente se avesse tra i 10 e i 13 anni e secondo me questo voler continuamente mettere il bimbo all'interno delle scene potrebbe creare dei risvolti interessanti per il futuro insomma io qui ho finito voi che cosa ne pensate? vi è piaciuto il film? vi è piaciuta la mia recensione? vi invito a lasciarmi un like in questo caso a scrivermi anche un commento qua sotto per dirmi che cosa ne pensate e qualora non l'abbiate ancora fatto a iscrivervi al canale a iscrivervi al canale